che sofferenza casa generale c'è da rispondere a Milan subito, immediatamente generale e va bene più di questo non possiamo fare niente ormai si è messa così però noi dobbiamo fare il nostro quello Udelo è tutto esavorito Udelo è tutto esavorito e c'è un'importante partita andiamo col pronostico Milito nostro 0-2 Milito è favorevole io dico 1-2 sentiamo il guru che l'aveva detto 2-1 però era sbagliato pure per me 1-1 1-2 anche per il generale quindi c'è fiducia non giochiamo proprio se non ci crediamo bisogna sempre crederci questo è il messaggio del generale ha ragione anche lui finché c'è vita c'è speranza e vediamo cosa succede prima di partire però dovete scaricare 1-2 sentitelo il generale il generale categorico come lui eh sì perché tanto è creato ed è sempre aggiornato lo dicono tutti però qualcuno in più non fa mai male esattamente link in descrizione c'è anche potete scaricarlo tramite QR code highlights partite il generale è sempre lì attiva il giornato grazie esattamente bravo generale bravissimo detto ciò forza Inter si 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 ti senti? ti senti? ti senti? speriamo che non fai un lavoro adesso che si va a fare? qui a San Verone che cosa si vede? qui si blocca era di blocco ma abbastanza lento l'emozione ah si ma il mio partiere ha fatto quello che ha fatto ma è stata l'annazione questa cazzo di padre non aveva passato il re però la polista no era solo maneggia ma come l'inizio? bene bravo di marco chiudiamola qua peccato peccato non c'è una mancina questa volta no no è batterato è batterato è batterato bello che roba nuovo ciao è capitato il ciò è che rimane sono fuori gioco ma hai evitato lo stesso hai evitato la lave non bella fuori gioco è fatto bene bene no un ucciso un po' di scherzo E' un po' più nervoso, non c'è un po' nervoso, non c'è un po' nervoso. E' un po' nervoso, non c'è un po' nervoso, non c'è un po' nervoso. E' un po' nervoso, non c'è un po' nervoso. E' un po' nervoso, non c'è un po' nervoso, non c'è un po' nervoso. E' un po' nervoso, non c'è un po' nervoso. E' un po' nervoso, non c'è un po' nervoso. E' un po' nervoso, non c'è un po' nervoso. E' un po' nervoso, non c'è un po' nervoso. E' un po' nervoso, non c'è un po' nervoso. E' un po' nervoso, non c'è un po' nervoso. E' un po' nervoso, non c'è un po' nervoso. E' un po' nervoso. Grazie a tutti.